ma benvenuti in questo nuovo 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 video dove praticamente oggi è l'ultimo giorno ultimo diciamo forse uno degli ultimi giorni in cui investiamo delle persone no anche no allora che cosa vi voglio raccontare che praticamente a settembre sembra novembre poi detto ciò in realtà il video io lo sapete che non parlo nei video anche perché non è che sa che cosa da dire e se iniziasse un monologo interiore si direi col parlare e sparlare male di altre persone quindi oggi è ufficialmente l'ultimo diciamo un altro giro in moto con i miei amici e andiamo per l'occasione verso la Versilia e ovviamente sono in ritardo devastante andiamo per l'occasione verso la Versilia per l'occasione verso la Versilia